Sai perché è impossibile leccarsi la punta dei gomiti? Dentro c'è il segreto dell'immortalità. Se uno riuscisse a leccarli potrebbe poi vivere per sempre. E se tutti riuscissero a leccarsi la punta dei gomiti, allora sì che sarebbe il caos, no? Perché non è che si può andare avanti a vivere, vivere e vivere così all'infinito. È che mi sono appena lasciato ed era una storia seria, quindi ecco. Sì, no, era giusto per fare due chiacchiere? Ovvio. Giusto due chiacchiere? Certo, lo so. Comunque lo stesso. Mi chiamo Orlando. Mariana. Ciao. 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 E tutto quello che sto per fare già esiste, ma che senso ha allora? Beh, assolutamente, mettiamo caso che esista solo il nostro universo. Ci sono una sola me e un solo te unici. Se questo fosse vero ci sarebbe una sola scelta, ma se invece esistono tutti i futuri possibili, allora le decisioni che prendiamo o no determinano qual è il futuro che sperimenteremo. Tu immagina tirare un dado 6.000 volte. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!